Ben ritrovati a un nuovo appuntamento dedicato al calcio femminile qui sul nostro canale video interamente dedicato al mondo del calcio femminile. Il mondiale è arrivato alle strette finali, sono quattro le squadre superstiti che si giocheranno il titolo, abbiamo già parlato della prima semifinale estremamente interessante tra la Spagna e la Svezia, da una parte una squadra che non è mai arrivata a questi livelli, la Spagna dall'altra una squadra straabituata ad esprimersi a questi livelli in semifinale internazionale, successo all'Europeo, al Mondiale, alle Olimpiadi e ora si tratta di portare a casa un trofeo che la Svezia non ha mai vinto, dall'altra invece abbiamo un numero unico, quantomeno un esordio, perché? Perché da una parte l'Inghilterra, squadra campione d'Europa, la grande maestra, la grande docente, come amano definirsi loro, del calcio internazionale affronta l'Australia, la madre patria che affronta una colonia, è una sfida all'interno del Commonwealth ed è estremamente interessante anche da un punto di vista umano, perché se è vero che l'Inghilterra ha sempre diffuso lo sport, non solo il calcio, in tutto il mondo e in modo particolare nell'emisfera australe, India, Pakistan, Estremo Oriente, Medio Oriente, ma soprattutto Australia e Nuova Zelanda, è altrettanto vero che queste cose, le colonie, come le definiscono gli inglesi, gli inglesi definiscono ancora adesso all'Australia una colonia, è vero che le colonie sotto questo aspetto hanno sempre avuto un senso di rivalsa molto forte nei confronti della madre patria e del Regno Unito, quindi è una sfida nella sfida, non soltanto sportiva ma anche umana. L'Inghilterra tutte le volte che va a giocare a rugby, piuttosto che a cricket, piuttosto che a calcio, piuttosto che a hockey, che sono i grandi sport che ha esportato nel mondo, in queste latitudini, in questi paesi diventa una sorta di oggetto di vendetta, perché l'Australia se c'è una squadra con la quale vorrebbe fare bella figura e vorrebbe magari ottenere una vittoria importante, che è una vittoria anche storica, è proprio l'Inghilterra, quindi una rivalità nella rivalità, questo è estremamente interessante, in un contesto dove però, dobbiamo dirlo, l'Australia arriva impreparata, perché? Perché l'Australia non ha mai espresso un grande calcio internazionale, né a livello maschile né a livello femminile, questa è la prima grande occasione per l'Australia per imporsi su uno scenario così globale, così significativo, mentre l'Inghilterra arriva da due semifinali mondiali, le ha perse entrambe, è vero, non è andata oltre un terzo e un quarto posto, però intanto si tratta della terza semifinale consecutiva e questo dimostra che il percorso di crescita c'è stato, in mezzo è arrivato anche il successo dell'Europeo dello scorso anno, con la nazionale che era stata presa in consegna da Sarina Wigman. Ricordiamo, terzo posto in Canada per l'Inghilterra nel 2015, quarto posto in Francia nel 2019, però l'Inghilterra in questo mondiale non ci ha convinto, ha giocato maluccio, ha fatto molta fatica, ha ottenuto un passaggio soltanto grazie ai calci di rigore contro la Nigeria, al termine di una partita francamente giocata piuttosto male e anche nei quarti di finale l'Inghilterra non ci ha particolarmente impressionato, soffrendo oltre misura, soprattutto nel finale contro la Colombia, che si è dimostrata una squadra onesta, dignitosa, ma sicuramente non alla portata di poter arrivare tra le migliori quattro del mondo. Nell'Inghilterra pensano sicuramente le assenze, alcune giocatrici non sono proprio partite, il caso di Batmeet e il caso di Wilkinson sono rimasti a casa per un brutto infortunio al ginocchio, però pesa molto anche l'assenza di Lauren James, che doveva essere l'elemento in più e che invece si è fatta espellere stupidamente negli ottavi di finale contro la Danimarca e sarà squalificata anche in questa semifinale. Un vero e proprio bollino rosso, un vero e proprio marchio non bello, non positivo, né sulla giocatrice né sulla squadra, che forse accusa questo torneo con eccessivo nervosismo, un nervosismo che potrebbe risultare fatale, perché? Perché l'Inghilterra giocherà in un ambiente, come abbiamo spiegato, assolutamente ostile, non soltanto per una questione di sport, si giocherà allo Stadium Australia di Sydney davanti a 75 mila persone, sarà una bolgia. Pensate, vi cito un aneddoto, quando c'è stata la semifinale tra l'Australia e la Francia, che finita ai calci di rigore, in Australia si giocava una normale partita del campionato di rugby, il che vuole dire stadi stracolmi per assistere alle partite dello sport più importante del paese. Ebbene, in quasi tutti gli stadi è stata sospesa la partita di rugby per far vedere dagli schermi la lotteria dei rigori. I giocatori non solo non hanno protestato, ma si sono fermati al centro del campo a guardare anche loro i rigori e, indipendentemente da quello che fosse il risultato sul campo della loro partita, hanno festeggiato insieme al pubblico. Questo per far capire che in Australia in questo momento si vive un momento di unità assolutamente straordinario e la squadra nazionale di calcio femminile può contribuire a questo momento con una vittoria che potrebbe essere fondamentale. L'ultimo tema, Samantha Kerr giocherà o no? Quello che abbiamo visto è che Samantha Kerr, che è forse l'attaccante più forte del mondo in questo momento, una autentica candidata al pallone d'oro, se avesse giocato di più in un mondiale che l'ha vista stare in disparte per via di un problema al polpaccio, se Samantha Kerr dovesse giocare ed è nelle sue condizioni in grado di dare veramente molto, di fare moltissimo, però non è nelle sue migliori condizioni. Questo è un dato di fatto. Nella partita nei quarti di finale contro la Francia ha giocato, considerando i tempi supplementari e i tempi regolamentari, ha giocato circa un'oretta. Non è sembrata nelle sue migliori condizioni e forse un'ora di gambe in campo non ce l'ha. Vedremo se il commissario tecnico deciderà di schierarla dall'inizio o a partite in corso. Propendiamo per questa seconda ipotesi. Per quanto riguarda invece i pronostici, le preferenze dei bookmaker, Australia padrona di casa, un intero continente dalla sua parte, ma sfavorita. La quota è intorno al 3,50, 3,50-3,60 in flessione. L'Inghilterra è data 2,10 e il Parigi viene quotato 3,30 al novantesimo, il che significa che l'Inghilterra è favorita, ma abbiamo già visto nel corso di questi mondiali che le squadre favorite quasi sempre non hanno fatto una bella fine. Grazie a tutti.